ciao a tutti e bentornati sul canale oggi nuovo video recensione voglio parlarvi di questo nuovo prodotto in realtà non so quanto sia nuovo come prodotto perché io l'ho acquistato soltanto un paio di settimane fa è un lip gloss nella versione opaca quindi matt la linea si chiama matt matt come evidenziato sul packaging è esattamente quello che sto indossando in questo momento sembra un po lucido ma vi garantisco che non lo è è solo l'effetto del faro comunque è un lip gloss opaco e in pratica questo lip gloss promette di essere un lucidalabra opaco quindi non dovrebbe lucidare le labbra e infatti non è lucida ma non è una tinta labbra quindi non è un rossetto io ho scelto il numero 03 ed è il girl of today all'interno della confezione ci sono 5 ml di prodotto e la scadenza è di 24 mesi la durata di questo lucidalabbra è abbastanza lunga io solitamente lo indosso la mattina quando sto per andare al lavoro e durante tutta la mattinata il colore persiste infatti quando rientro a casa dopo aver comunque fatto un spuntino e dopo comunque aver bevuto anche della semplice acqua il colore persiste certo è leggermente sviadito ma non non si è perso e le labbra rimangono sempre belle colorate la sua durata è di circa 5-6 ore non regge se facciamo un pasto questo bisogna dirlo posso dire già da subito che il prodotto è un buon prodotto quindi per quello che costa e costa 3,29 euro va benissimo vale è utilizzabile assolutamente però non ci dobbiamo aspettare che il rossetto continui a persistere sulle nostre labbra dopo aver mangiato mangiato qualsiasi cosa certo un tarallino un crackers non gli fanno niente ma se pranziamo o ceniamo ovviamente la tinta verrà mangiata insieme al pasto non secca non secca rimane lascia le labbra belle morbide idratate nonostante non sia un idratante labbra al suo interno il pennellino è fatto in questa maniera è una specie di tamponcino classico come tutti i luci da labbra e ha un sapore molto dolce e gradevole non è stucchevole almeno a me piace e anche quando lo si quando lo si passa è morbido il mio video termina qui spero vi sia piaciuto io consiglio questo prodotto quindi consiglio il matt 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 della essence in linea di massima più o meno tutti i prodotti della essence mi piacciono parecchio lasciatemi tanti pollici in su se avete qualche domanda lasciatemi il commento sotto l'info box mi raccomando per non perdere i prossimi video iscrivetevi al canale e se volete seguirmi sui canali social li trovate qui in sovrimpressione ciao e alla prossima